Ciao a tutti ragazzi, come state? Vi siete chiesti come mai io non facessi più video? Beh, lo scoprirete molto presto perché mi ha messo in Instagram Allora, adesso vi mostrerò un po' la casa mia Visto che non facevo più video, mi sono scordato, ecco questo Ogni giorno devo pubblicare i video benissimo, mi sono scordato Una casa veloce ma i gatti Vi voglio mostrare subito i miei gattini dove si sono posizionati Questo è il primo gatto che vi avrei promesso che vi mostrerei il mio gattino Leotonino carino si chiama, l'abbiamo preso da Bari Poi gli altri due sono su Beh, giusto in due minuti vi ho fatto vedere la mia casa Queste qua sono le scale, va bene Questi qua sono i miei due gattini Questo qua, lo vedete E poi c'è anche questo Non so se si riesce a vedere ma sicuramente il mio golio ha fatto Era quello che ovviamente si sentiva molto Molto, cioè aveva anche, era quello che era popolare Cioè i video popolari diciamo Video così in agitazione perché avevo voglia di farlo ed era tantissimo tempo che non lo facevo Scusate, prendo il fiato Comunque Sono molto felice di essere ritornato qua E a fare i video con voi Da tantissimo tempo che non ci vediamo Da come avete letto dal titolo vi mostro la casa e i miei gatti E insomma spero che vi siete divertiti Ah, un'altra cosa Il primo aprile esce il mio singolo day Pinguini tattici nucleari E usciranno molti video della musica anche Quindi non perdeteli Un abbraccione ragazzi E a presto Ciao Ciao